Giannini ricorda la passione per la recitazione di Monica Vitti e con lui tanti altri artisti raccontano l'attrice formidabile interprete drammatica del cinema di Antonioni ma anche mattatrice comica e regina della commedia con film come La ragazza con la pistola, Polvere di stelle, Dramma della gelosia Tra i filmati del documentario c'è la dichiarazione di amorosa amicizia che Alberto Sordi fece a Monica Vitti in una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show su Canale 5 Le voglio bene come non si vuole bene alle mogli o alle fidanzate Parli di me? Di te, io li voglio molto bene Monica Vitti con la sua capacità di raccontare le donne e la vita è sempre nel cuore di tutti Ha fatto sorridere uomini e donne e le donne si sono riviste nelle sue interpretazioni straordinarie